Paolo Bolognesi è parlamentare del Partito Democratico e fa parte della Commissione Difesa. Lei dal 1996 è anche il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime della Strage di Bologna del 2 agosto 1980. Di recente è stata archiviata la pista palestinese. Lei ha definito questa notizia una bufala. Perché? Ma non la notizia, la pista che era una bufala, una bufala che è durata più di sette anni, addirittura una commissione bicamerale, la commissione Mitrochin, ha rispolverato questa pista che era uscita dai primi giorni della strage. Finalmente è stata chiusa, adesso i giudici avranno la possibilità di indagare i suoi mandanti, cioè analizzare quei rapporti che c'erano fra i terroristi e la P2, la P2 e i servizi segreti, e fare in modo che si possa arrivare a mettere la parola fine a questa strage con anche i nomi e i cognomi dei mandanti. Bolognese, lei è anche firmatario di due proposte di legge, una sul controllo delle spese militari, un'altra invece sulla trasparenza degli archivi militari. A che punto hai il lavoro? Allora, per quello che riguarda la legge sul controllo delle spese militari, la legge è stata incardinata alcuni giorni fa e pertanto cominceranno le audizioni per sentire degli esperti su questa legge e per far procedere celermente la legge in commissione. Questa legge prevede un controllo, cioè un'autority praticamente, che analizzi i costi e le spese dei sistemi d'arma, ma soprattutto prevede anche che nel momento in cui questi costi si discostano di un 25% immediatamente venga controllato questo 25% e se si riscontrano delle incongruenze il tutto passa alla Corte dei Conti ma il contratto venga sospeso con penali a carico dell'azienda che ha fatto questi aumenti di costi non parametrati. Tengo presente che questa è una legge che è stata ripresa dal GAU americano, perciò non è niente di innovativo, di estremamente rivoluzionario, è una legge americana. Perciò si cerca di applicare questa legge all'interno degli acquisti delle forze armate. Bolognesi, grazie, buon lavoro. Grazie.